Nell'ambito del progetto interregionale tra Italia, Albania e Montenegro, il Comune di Termoli ha realizzato nei giorni scorsi alcune attività di sensibilizzazione e promozione del territorio attraverso il progetto Biotours, che mira ad aumentare l'attrattività delle risorse naturali, in questo caso specifico la presenza dei cetacei nell'Adriatico, collegando il settore turistico alla protezione e alla conservazione della biodiversità marina. Questo è un progetto al quale Termoli è aderito, abbiamo avuto un finanziamento di 176 mila euro di budget, condividiamo il progetto con altri due paesi come Albania e Montenegro, noi siamo partiti, sono state quattro giornate davvero molto belle, abbiamo appreso tante tecniche che possiamo riportare nella nostra città per il turismo. E così la città adriatica ha ospitato il primo evento di Capacity Building, che ha visto la presenza di Carmelo Fanizza, presidente della Jonian Dolphin Conservation, che ha illustrato gli obiettivi generali e l'approccio specifico di tutela dei cetacei adottato dall'associazione. Ospite dell'evento anche Antonio Celona, biologo marino, che ha analizzato invece il rapporto che sussiste tra la pesca e le specie di cetacei presenti all'interno del mare Adriatico. Si sta concludendo la programmazione 2014-2020, stiamo ripartendo con la nuova programmazione 2021-27. Il tema evidentemente cruciale è il FLAG, contento di questa riflessione perché ha attinto una serie di informazioni che saranno utili per impostare la nuova strategia, tuttavia nella continuità, devo dire, con quanto è stato fatto negli ultimi tre anni, perché tutta l'azione del FLAG è stata pensata, gestita e finalizzata proprio a una pesca sostenibile e a un turismo sostenibile, diciamo, noi le azioni che abbiamo fatto erano tutti tendenti verso questa direzione, che è la direzione che dobbiamo prendere. Il pescatore ormai ha capito che la pesca sostenibile non è solo lasciare il pesce nell'acqua e farlo crescere, ma la pesca sostenibile è anche altro, e l'altro potrebbe essere anche il turismo, potrebbe essere la pescaturismo, potrebbe essere l'attiturismo, che può dare un reddito maggiore al pescatore. Il pescatore ormai se ne è reso conto e ha preso coscientemente questa cosa. Le attività hanno visto anche la partecipazione di tanti studenti, i quali hanno conosciuto più da vicino gli argomenti legati alla salvaguardia dei cetacei e all'educazione ambientale a tutela del patrimonio marino e costiero. Per molti è stata un'esperienza indimenticabile alla scoperta della vita in mare, grazie anche all'utilizzo della realtà virtuale. Grazie a tutti.